Roberto Bolle si racconta tutto sulla sua vita privata e sui sacrifici fatti.Apostrofo certamente tra i ballerini più apprezzati ed amati di tutto l'orizzonte internazionale ed è, in tal senso, un vero e proprio banco per tutta l'Italia Da persona molto riservata qual è, però, si sa molto poco da lui. Proprio per questo motivo, è davvero una sorta di perla rara l'intervista che ha concesso i colleghi del settimanale Grazia, le qual due scaldi non è, ricopre questo prestigiosissimo ruolo da lontano 2004, ha raccontato anche dei sacrifici fatti dai genitori per permettergli di prendere il cuore, queste le sue parole Ripensando in tutto questo posso dire quanto si siano sacrificati i miei genitori per me, per loro che rinunciavano alle vacanze per lavorare, per dare un futuro a noi I viaggi sono stati un regalo di voi. La riconoscenza è, dal punto, sempre un sentimento bellissimo ed emozionante.Roberto vuole la vita in attesa, ovviamente Però, per arrivare al livello di tanto elevati vengono richiesti tanto impegno e, soprattutto, un numero davvero notevole di sacrifici, e dato al proposito, sono queste le sue parole La calemia è un ambiente che impone disciplina e correttezza. La mattina uscivo prestissimo. Trascorrevo lì l'intera giornata, cena in presa. E adesso davvero si può dire che si sta godendo il tanto agognato meritato successo .